Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. Mettiamo. in votazione. in votazione. a tutti. 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 io. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. abbiamo. abbiamo. a tutti. a tutti. su. . . si. . a tutti. . 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 si. . 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 tutti i territori hanno delle colture tipiche, hanno un'economia che si fonda appunto su questo settore che ha trovato serie di difficoltà per vendere i prodotti e per raccogliere le vie di lettura, per mantenere il personale che molte aziende avevano all'interno. Ci sono stato in questi giorni avvicinato, mi hanno scritto anche a lei altre categorie che forse non vengono in questo momento propriamente tutelate, ma sono i lavoratori dello spettacolo. Sono tutte quelle persone che non sono in prima linea del mondo dello spettacolo, ma anche la logistica. Ci sono tantissime di imprenditori e di imprenditori che hanno un numero di lavoratori che fanno riprendine, attestiscono concerti, scenografi teatrali. E' tutto il mondo dello spettacolo, spiegato alla logistica che sta dietro le publie e in questo momento non ha nessun tipo di spirale. Il settore turistico, in cui molti dei nostri territori dedicavano sostentamento ai ristoratori e agli albergatori, ai gestori di breakfast, in questo momento ai nuovi ragazzi stagionali che lavorano nei ristoranti, e agli albergatori e agli albergatori e agli albergatori, non solo. In questo momento va dato veramente uno spirale di luce e quindi spero che noi, in qualità di amministratori della città, in realtà lei, che ha sempre sostenuto l'appoggio a tutte quelle idee costituzionalmente orientate e che rappresentano il fluggo dello sviluppo, però spero nel mio conflitto che l'avanzo di questo ente possa essere destinato in maniera corposa e costituzionale a queste tecniche, a queste materie e a questi settori. Grazie. Pensate che le nostre città turistiche, come avete detto voi, in modo assolutamente condivisibile, si regolano con l'esclusiva tassa di soggiorno. Noi abbiamo fatto una grande battaglia con i sindaci, dopo aver avuto l'assicurazione del ministro Franceschini, poi anche lui di Meffo, c'hanno visto solo 100 milioni di euro, fatevi un po' i caldi, 100 milioni di euro per il paese interno. Quindi la situazione è davvero seria e io credo che noi possiamo svolgere un ruolo non solo per cercare di vedere che il Parlamento, le forze politiche possano correggere tutto questo, ma provare anche lui, quello che mi riferivo prima, che vedo che è stato racconto l'appello, come città metropolitana potremmo fare la cosa che non ha fatto il governo, quello che facciamo, ovviamente questo però non deve mai essere, se posso permettermi di fare una considerazione politica, però come dire, la compensazione, cioè non esiste più questa volta della compensazione, cioè io credo che un'analisi non la dobbiamo fare, tiratevi gli schieramenti politici, perché poi guardate, oggi sentimo dire un ex ministro che lui è tranquillo perché non ci sono proteste nel paese, io lo vorrei far venire ogni mattina, sotto Palazzo San Giacomo, che la sede, la sede del Comune di Napoli, la gente viene anche delle vertenze che noi non sono nemmeno comunali, perché hanno bisogno di vedere qualcuno che li ascolta, quindi alla fine l'esasperazione è la via o no, quindi questo è un tema che bisogna farlo capire, non c'è più di farlo capire, però oggi mi sento molto incoraggiato, perché al di là degli schieramenti politici, mi sembra che c'è un po' di sentire sull'esigenza che la città, quello che può fare, non è che sia un governo nazionale, però disegniamo i nostri territori che possiamo dare e credo che farlo come abbiamo fatto per il piano strategico, quindi vi ringrazio. Sì, però, sarò benissimo, perché mi aggancio a quello che ha detto lei proprio in pochi secondi fa, e vi faccio fare una riflessione, no? Noi qualche anno fa abbiamo messo in campo questo apporto istituzionale che vede le forze politiche, collaborare, non rispettando le reciproche identità, ma collaborare in maniera istituzionale per il progresso dello stesso territorio. E' chiaro che le differenze che ci mancano sono ancora evidenti, però ciò non ci ha impedito di agire e di realizzare qualcosa di importante, di cui dovremmo vantarci e dovremmo continuare a farlo, perché l'esperienza della città metropolitana di Napoli è l'unica nel patrimonio nazionale. Abbiamo assistito, purtroppo, in queste settimane di emergenza, ad una serie di provvedimenti che ricorrevano più il consenso piuttosto che il fare concreto. Sindaco, io penso che ancora una volta, in questa occasione, abbiamo la possibilità di rimarcare una differenza in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo nel panorama nazionale piuttosto che quello regionale. E quindi io confido, come lei, nell'intelligenza delle forze politiche che compongono questo Consiglio per cercare di fare noi tendenza e di rimarcare la volontà al di là dei colori, al di là delle idee per dimostrare a chi poteva farlo e forse lo potrà fare ancora, di essere più incisivo per il futuro. Perché se qualcuno ha detto, come è stato detto e come condivido, che siamo in una ricostruzione post-apetica, forse stiamo murando con un'aspirina, una malattia che ha bisogno di un'iniezione un po' più sostanziosa. Quindi confido nell'intelligenza dei consiglieri e anche sua, Sindaco, perché dipende soprattutto dal suo condurre per mano tutti i suoi collaboratori, che mi riferisco ai consiglieri, che hanno ognuna le proprie individualità, le proprie idee, ma che possano convergere nell'interesse dei nostri territori. Grazie, io vi sono già mosso, però per rispetto per quest'alba, poi voglio che ne parliamo al di fuori, per non sembrare che sono decisioni che cadono dall'alto, magari avessero forse la lucidranza e il senso di solidarietà istituzionale, gli stinesi in questi anni abbiamo dimostrato che probabilmente certe volte si ascoltassero di più le pagine di sofferenza, ma anche di quelle di passione che vengono dal sud, in questo caso dalla capitale del mezzogiorno, probabilmente non dico che potrebbe essere esempio perché non mi permetto, ma sicuramente come un buon modo di operare e in questa occasione io sono convinto che daremo nuovamente prova di capacità, concretezza, solidarietà e spirito di condivisione col contributo di tutti. Prego, Salvatore Romano, prego, benvenuto ragazzi. Salute a tutti, signor, saluto. Bene, io ho fatto una piccola riunione stamattina con un gruppo, con questo bilancio tecnico che praticamente guarda un luogo, tra i cittadini di città e insieme a un'altra, però volevo focalizzare una serie di situazioni, non è detto bene, se lo diciamo da una situazione fluera praticamente, però vi dico non l'abbiamo visto, e d'altra parte ci sono le mie pagine giornali anche in modo analistiche, tipo ancora le persone che lavorano da casa, le persone che studiano da casa, io come amministratore locale ho provato tantissime criticità, gente che non aveva internet, perché non aveva linee, gente che non aveva strumenti per operare la cosa, quindi, insomma, si è detto tanto e tutto, però la verità non è questa cosa. E anche nel campo del mondo, ci sono diverse categorie di lavoro, i lavoratori che potevano tranquillamente andare avanti, noi abbiamo visto la realizzazione del fondo di genere, un organo di edilizia che non si è spermato, stranamente da dove si è spermato, non si capisce di questo, si può vedere quale si è spermato, la questione è che nessuno ha studiato praticamente nel territorio e quindi in qualche modo in termini avrebbero dovuto andare avanti tranquillamente, creando una serie di risultati, una serie di comunità, sono un tipo di situazioni critiche e è difficile mettere in modo un paese così quando nessuno ha studiato le cose, ancora sul commercio, ancora sulla ristorazione, con l'aumento di queste superfici, queste barriere che ci devono dividere, ci devono allontanare, quindi andrebbero studiato per bene le misure capaci di mettere in piedi, in modo, tutto il nostro sistema coltivo, quindi bisognerebbe fare una grande riflessione, io questo non ho visto, questo non ho visto soltanto, ho capito che c'era la necessità di distanziarci, per non montaggiarci, noi vediamo qui nel quale dentro, chi ha la aspirina, chi sono basiche, cioè incidiamo quasi tutti quanti che questa situazione sta mando, quantomeno si sta allontanando con le criticità, noi dovremmo avere la forza e il coraggio di analizzare meglio queste cose, dare più finito, ma questo bisogna dire per quanto riguarda la ripresa economica, perché come se ci vengiamo addosso e diciamo sempre le stesse cose, le felicità che abbiamo nel campo del turismo, c'è l'unica nostra profonde di opportunità per quanto riguarda la questione di reti, bisognerebbe veramente studiare le misure, per bene, bisogna dire neanche delle risposte semplici, scientifiche, non soltanto fare un tempo di sconosso loro, ma andare a fondo nella situazione, solo così non danno delle risposte, perché qui non è nessuna soluzione, nessuna risposta efficiente per dirla, per dirla, per dirla, per dirla, per dirla, mi dà un senso di, come dire, di di abbandono, di stare puntando da quello che potrebbe essere una ripresa fatta con grazie a lei, a questo punto mettiamo in votazione, mettiamo in votazione, di fronte di gruppo, e anche a questo punto mettiamo in votazione. di dichiarare ufficialmente l'adesione al gruppo metropolitano di Forza Italia, perché pensavo che non dichiararlo fosse implicito, invece tengo a precisare questa resa. Sono di implicito ma anche di certezza in politica non c'è nulla, lei ce ne è accaduto di più adesso, quindi siamo contenti, grazie. Assolutamente, siamo in una sede istituzionale, bene, quindi possiamo mettere in votazione a questo punto la delibera di cui è al punto 12 del domenica del giorno, chi è favorevole al cittadano, chi è contrario, chi si astiene, chi si astiene, astensione della consigliera Quaglietta, quindi passa maggioranza, immediata eseguinità, chi è favorevole al cittadano, che il contrario mi si astiene a non dare in campo. Abbiamo adesso, prego, consiglieri. Sindaco, grazie. Sul punto 12 chiedo il rinvio dell'economia per la disciplina dei contratti per maggiori approfondimenti. Se possiamo mettere in votazione la proposta del Consigliere Tito di rinvio della delibera di cui è al punto 12 dell'ordine del giorno, chiede di intervenire, sono perché non è il Consigliere Tito di rinvio. Ah no, prego d'altro, stava già con la mano alzata perché abbiamo esigenze di incelerità, mettiamo in votazione il rinvio, chi è favorevole al zio la mano, chi è contrario mi si astiene, quindi viene rinviata la delibera del 2 al punto 12. Passiamo adesso alla delibera del 2 al punto 13. Approvazione del regolamento di contabilità della città metropolitana di Napoli, ai sensi dell'articolo di 752, dell'articolo legislativo 267-2000, c'è un emendamento. Abbiamo l'emendamento numero 15 di un protocollo 50984 del Consigliere Marrazzo con parere, a un perfezionamento, ve lo leggo, facciamo prima, quindi, presentatore Marrazzo, finalità, improcedibilità e ammissibilità delle deliberazioni non coerenti con il tutto. L'improcedibilità delle deliberazioni è rilevata per quanto di rispettiva competenza dal segretario generale, dal direttore generale o dal dirigente della direzione pianificazione strategica e propiede alla restituzione, la proposta al dirigente e alla struttura interessata nel proprimento politico. Sostituire il proprimento, l'improcedibilità delle deliberazioni è rilevata dal direttore generale o dal segretario generale, che propiede alla restituzione della proposta al dirigente della struttura interessata a un proprimento politico. La valutazione di differenza con il tutto è rilevata dal direttore generale o dal segretario generale, che sia parlato del coordinatore delle varie competenze in maniera in quale a conclusione della valutazione apporrà il proprio visto sulle proposte di deliberazione e visto sulle proposte di deliberazione a firma della direzione pianificazione strategica e politica comunitaria e del comandante della polizia comunitana viene apposto dal dirigente della direzione pianificazione strategica e politica comunitaria a conclusione della valutazione o dal direttore generale o con il segretario generale. Il collegio delle visori, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contatto, invece dei dirigenti di competenza, osserva che lo schema di regolamento e le sue variazioni sono di competenza esclusiva dell'ordine esecutivo, pertanto ritiene che la predetta variazione debba essere deliberata dal sindaco mesropolitano. Per queste motivazioni si rinvia il parere al perfezionamento del libro al ministro. Quindi lo mettiamo? Quindi vuol dire che... Lo mettere, lo mettere, se lei è d'accordo. A votazione poi, siccome lei deve approvare la delibera e punta, siccome dell'ordine esecutivo, quindi questo emendamento comunque lo mettere a votazione. Per poi ovviamente rinviare i regolamenti però. Va bene. Per poi rinviare i regolamenti... Quindi o diamo adesso un emendamento, approviamo i regolamenti e poi successivamente vi farò la notifica. Sennò si può chiedere giusto, sennò si può rinviare. Lo riceviamo e lo portiamo a votazione. Perfetto, perfetto. Sindaco, io a riguardo chiederei il parere in merito all'apprendamento al senatore generale. Se fosse possibile avere un parere in merito dal punto di vista giuridico, amministrativo, anche se riflette sugli altri regolamenti interni dell'ente. Quindi un parere se ne fa. Grazie. Bene, signor Gaccio. Dunque, il parere del collegio di disoluzione è chiaro, cioè la meta di fatto è la competenza dell'organo, perché in sé la questione attiene alla dritta di coerenza dell'attività che viene sviluppata. Siccome la competenza in materia di auto-organizzazione è esclusiva dell'organo esecutivo, ossia del sindaco, i revisori semplicemente non entrano nel merito, dicono che non è la sede, il consigliante, il parere non è raccontabile, ma la sede è quella dell'organo esecutivo. Quindi di fatto il presidente del consiglio, che è anche sindaco, non farà altro che trasporta questo atto nell'auto esecutivo della modifica del regolamento di organizzazione ufficiale. Cioè non è di competenza del consiglio, tutto qua. No, perché io credo che la modifica del regolamento sia di espressa competenza del regolamento del regolamento di organizzazione ufficiale. No, parliamo del regolamento di contabilità. Quindi siccome tratta di una operativa del consiglio, il consiglio può in Italia. Io per questo chiedo il suo parere in merito all'emendamento, non all'interpretazione del parere del collegio, perché lo sappiamo adesso. Grazie. Sono stato chiaro, non potete rinunciare a un'opera? Sull'emendamento, io voglio superare sull'emendamento, non su una competenza di domenica riconosce. Allora, per il supposto giuridico, per un visto, deve essere nella legge. La verifica di questa coerenza non è nel regolamento di contabilità, perché non esiste il visto di regolarità della coerenza. Nel regolamento di contabilità esiste il visto di regolarità contabile attestabile come una finanziaria, che è un'altra cosa, che attiene al regolamento di contabilità. Bene, qui si rappresenta una esigenza organizzativa. Ben poco l'amministrazione e l'ambito del regolamento di organizzazione sappiano un visto di coerenza. Se poi non si chiama visto e si chiama in un altro modo, non è un provvedimento autorizzato per il senso stretto. È solo una verifica di coerenza rispetto agli studenti di programmazione fondamentale. Penso di essere stato fatto. E facciamo il piano, per me non ci sono problemi. Se lo vogliamo votare, ci rinviamo per il regolamento. Io penso che sia l'opportuno di inviare, lo arrivano da questo punto, visto che il sindaco fresce dirà, quindi nel nuovo regolamento, che poi rispicheremo qui in consiglio. Mi dispiace ma ho un po' di difficoltà tra quello che dobbiamo approvare. Noi abbiamo un'approvazione di regolamento di contabilità. A questo regolamento di contabilità che ribadisco, spetta, la potestà al Consiglio metropolitano e a provare i regolamenti, è stato sottoposto un emendamento al regolamento di contabilità. Allora, la chiarezza istituzionale ci proviamo a approvare un regolamento. Su questo regolamento c'è un emendamento. Bene, è alla risposta del Consigliere Cacciavosso, in cui viene presentato un emendamento al regolamento di contabilità. Il sindaco ci deve dare una risposta in petto al punto all'unione delle regioni. Non vuoi inviare al sindaco del regolamento di funzionamento di sindaco. Adesso, noi siamo votati il regolamento di contabilità in regia sindaco. E lei, su un emendamento abbiamo chiesto, come consigliere Petro Novitano, che ribadiscono su un suo parere autorevole. Esiciamo una risposta, il regolamento di contabilità. A quel punto, scusate, a quel punto si potrebbe votare l'emendamento, ma potremmo punire con la regolamento. Sì, bene. Io sarei contrario a votare l'emendamento del regolamento, che va a sentire. Ma se l'emendamento si vota? Il fuori? Il fuori? Il fuori? Possiamo votare l'emendamento in pregolamento? Il fuori? Il fuori? Il fuori? Il fuori? La richiesta di chiacchietti da parte del consigliere Cacciavoli in merito all'emendamento. Come abbiamo visto il segretario Petro Novitano di conoscere se ci sono motivi ostativi. Punto. E già, il segretario ci deve rispondere, tecnicamente, giuridicamente e amministrativo. Questo noi vogliamo sapere. Siamo pronti a votare l'emendamento in pregolamento. E di vero? Gli diamo la parola al segretario. Anzi, anche per voi dare il segretario la possibilità di una sintesi. Allora, per questo che chi presenta l'emendamento ha la prerogativa di ritirare, però diventa come il patrimonio del Consiglio, la discussione. Io apprezzo l'intervento di Cacciapurri sulla questione di regolamenti e di pertinenza nostra. Ok, voglio anche chiarire a me stesso l'intervento di Cacciapurri. Quello che vorrei io l'assimitare, come si deve dire, è capire che questo è un regolamento. L'oggetto dell'emendamento è pertinente a quel regolamento o meno? In effetti ne abbiamo fatto anche un confronto prima di entrare in Consiglio. Quindi non ci sa niente da nascondere rispetto al fatto che ci siamo confrontati. Correggio dal segretario, non ci fosse il fatto che l'oggetto dell'emendamento sia o meno pertinente a quel regolamento. Sia di pertinenza nostra, di regolamento, questo è chiaro. Potrebbe essere, sull'indicazione del segretario, non pertinente l'oggetto dell'emendamento a quel regolamento in relazione anche alle norme nazionali e alle norme superiore. Questo è dire che i termini si è diversi e possa essere fatti. Poi decidiamo liberamente, il Consiglio lo decide liberamente, di rinviare o di metterlo ai voti. Con uno sforzo di semplificazione, la questione non attiene al regolamento di contabilità. L'oggetto dell'emendamento non attiene al regolamento di contabilità. Perché si tratta di reintrodurre il visto che era già previsto nel regolamento di organizzazione ufficio e servizi. In una precedente modifica il visto è stato espunto dal regolamento di organizzazione ufficio e servizi che non è di competenza del Consiglio. Il Consiglio in materia di organizzazione dell'amministrazione può stabilire solo criteri generali. si tratta di competenza esclusiva dell'ordine esecutivo e quindi della città metropolitana competenza esclusiva del sindaco. Ove l'amministrazione intende a reintrodurre il visto che è un visto di coerenza, ripeto, si chiama visto ma di fatto è un visto di coerenza, a libertà di farlo nella sede dell'ordine esecutivo, cioè il giugno. Penso di aver risposto. Io voglio capire questo visto di coerenza che c'è. E' stato esecuto da chi? Dallo stesso organo esecutivo soproposta dell'ufficio. Dal sindaco? Esattamente, soproposta dell'ufficio. Un progetto modifica perché naturalmente questo visto attiene al modello organizzatore poiché, evidentemente, si pensava di avere un altro modello organizzatore, in quel momento era stato esecuto. E allora, questo non c'è stato l'inizio del consiglio rispetto all'organizzazione. Si, che lo fa solo più criteri generali, più criteri generali, non ve lo specifico. Ma il sindaco ha già espresso la sua volontà di fare. Ma lei era un po' di sattempo. Ho detto prima no, forse di sattempo. No, no, nel senso che mi sembra che si verrà di sattempo. Il tema, siccome io non ho difficoltà a recepire, l'avevo detto prima, rivolgendomi al consigliere Madrazzo e al consigliere Cacciapubli, cioè di adottarlo per l'atto dell'ordine esecutivo, così come il Correggio dei Revisori e dal segretario. Preciamente, come dite, la discussione fatta con gli altri ed evitando una votazione che probabilmente lo trova. Sì, donate. Che fa? Parlate solamente. Consigliere Cilindro. No, chiedo scusa. Però, da quello che capisco, se così posso dire, caro segretario, è che in questo evidente, non c'entra proprio niente su quello che stiamo chiamando, perché sempre il caso, noi dobbiamo votare, il regolamento di contabilità è quello che è nata a costo. Scusate, questa proposta, caro diritto, non ha nessun tipo di coerenza che è, cioè è stato votato, è nata a costo, quindi il regolamento passa per si può dire, e poi eventualmente, caso, vuoi potermi giunta, poi se vuoi dire, perché poi è la cosa che tiene a voto la candidata, non c'entra, quindi è nata a costo. Sì, non possiamo votare quello che io l'ho, ma secondo me, noi dobbiamo da solo di pregola, ma se vuoi dare un segretario, giusto come l'aggione avanti, forse bene, va bene, grazie. No, voglio fare così, non ritengo che, sotto correzione del segretario, questo regolamento fa caro alla dottoressa Miele, normalmente, noi arriviamo qua, possiamo sentire pure la sua voce, l'oggetto dell'emendamento è di pertinenza di questo regolamento. Andiamo qua, dottoressa Miele, poi credo che sia opportuno provare per inviare, perché credo, non va, ma non la sei mai, ma siamo un po'. Allora, consigliero, consiglierio, io ho già espresso parere di regolarità tecniche contabili e favorevoli, perché nulla muta dal punto di vista dello spinto del regolamento di contabilità, l'emendamento che è stato proposto incide su un articolo che c'ha, un articolo, tra molte virgolette, che impatta su competenze e organizzazione, per cui la cosa è assolutamente neutra, io non ho proprio un prelievo da fare da tutto io, perché dico il contabile, se lo scopo, naturalmente, delle ragioni di diritto che il segretario, molto meglio di me, può argomentare, va benissimo, insomma, però il regolamento di contabilità è un articolo specifico che se non vado al rato e la rificola all'interno del quale si parla della verifica di coerenza delle delibere con il documento unico di programmazione, ci poteva stare, appunto, che riguarda, però, appunto, come mi fermo lì, ecco. Vogliamo sentire il proponente dell'emendamento, se c'è una proposta... Sì, ma però è meglio di essere stato fuori confusione, da rendizione, perché per i regolamenti è sempre competenze, è sempre una competenza di qualsiasi consiglio, dal comunale, ovviamente a quello per un'emendamento. E' solo questo qui un emendamento tecnico all'interno del regolamento di contabilità, quindi che riguarda l'interdegnerario meno l'improcedibilità e l'inammissibilità delle delibere azioni non coerente al mondo. Cioè, questo, in sintesi, significa che il coordinatore dell'area mette in risco, quindi che lo fa il direttore generale o il segretario generale, di unitamente al coordinatore di qualsiasi consiglio, quindi è anche una sorta di garanzia per il direttore generale e per il segretario generale, per quanto concerne questo risco di coerenza a un gruppo. Quindi questo, se no, non riesco a comprendere se un regolamento che deve essere votato e approvato dalla Consiglio, non possa essere votato da tutti, quindi tecnicamente io non vedo nulla che sia di sbagliato. Se c'è qualcosa di sbagliato, non può comprendere o darsi che non capire nessun regolamento. Prego, signor Presidente. Sì, devo votare. Io dico al segretario di Metropolitano, perché continuo a non capire che è già segretario, su questo discorso che ci è stato detto, noi stiamo mettendo in discussione, la segretaria della mia scuola, cortesemente, noi stiamo mettendo in discussione quello che è passato la mano destra ha fatto sull'organizzazione della piano locale e noi abbiamo individuato all'interno di questo discorso anche la figura dei coordinatori. Se lei mi ha detto e mi ha chiarito e diceva, guarda, il sindaco ha tolto e il coordinatore non deve firmare, non deve firmare. Scusate, mi state facendo qualche scherzo che quello che abbiamo fatto non è possibile. E i coordinatori non hanno un modo di esistere. Allora, lei mi deve chiarire, c'è un'impostazione che è stata fatta, dove noi abbiamo individuato, l'abbiamo accaduto, i coordinatori, i dirigenti, e tutto questo è per me, mi sembra che fuori se la parola, ma come se stiamo tornando indietro, perdiamo la figura dei coordinatori, nel momento in cui quella figura che noi è stata individuata per il controllo e per la firma, allora lei mi deve chiarire la volontà di farci capire anche i nostri figli, che non conosciamo bene la domanda, e anche perché io si parisco, il Consiglio è quello che fa, ognuno si assume la propria responsabilità, però con il regolamento, un momento di chiarezza giuridico, giuridico, in quello che ti andiamo a fare, e se è vero per quello che ha dichiarato il sindaco, ha tolto questa cosa, e mi dimentico, e per nominare la figura dei coordinatori, non chiede a lei per il suo segretario. Allora, ci sono tutta una serie di note che riguardano questa materia, consigliere Vito, e la figura dei coordinatori è ben più importante del semplice visto, il visto è ben più importante del semplice visto, la introduzione del visto, o la omissione, come dire, o la eliminazione del visto, non incide in alcun modo sull'attività dei coordinatori, perché fa parte naturalmente del modello organizzatorio che questa amministrazione si è data, e che in questo sindaco viene la funzione di organo esecutivo a Giappola, quindi il visto non incide in alcun modo sulla figura dei coordinatori, questo sbagliamo questa chimera, perché altrimenti si va a introdurre un argomento, tanto è vero che questa modifica ormai è ben datata di oltre un anno, non mi risulta che ci sia stata, la missione della competenza dei coordinatori, che non si saurisce in questi in verità, si chiama visto, ma si può chiamare in qualunque modo, si tratta di competenza esclusiva del... non è vero che tutti i regolamenti sono di competenza di consiglio, la materia del regolamento, organizzazioni, uffici e servizi è di competenza esclusiva dell'ordine esecutivo, una competenza esclusiva proprio, quindi il sindaco seguire, basa al modello organizzatorio, intende reintrodurre il visto come lo vogliamo chiamare, è una verifica, se non lo vogliamo chiamare visto perché altrimenti vi si dà una, come dire, una veste giuridica di fatto inesistente, perché il visto esiste in quanto esiste un presupposto normativo, ci vuole una legge di primo grado per introdurre il visto, questo si chiama visto, ma di fatto è una verifica di coerenza, ben può l'amministrazione attraverso la sua struttura, organizzatori, direttori generali, coordinatori, verificare se un provvedimento che viene assunto è in coerenza con gli strumenti di programmazione fondamentale dell'ente, tra cui il documento unico di programmazione, semplicemente perché i revisori hanno osservato in questo atto, perché in B, e qui c'è l'introduzione del visto, non il fatto della improcedibilità, era già visto nel regolamento di contabilità, suggeriscono semplicemente di metterlo dove deve stare, cioè nel regolamento di organizzazione, il sindaco ha già dichiarato che vuole reintrodurlo, per me nulla a questo, dopodiché, fra il primo momento, prego. Fermo restando che andrà anche messo nel regolamento dell'organizzazione più difficile, ma faccio una domanda sempre, questo emendamento è legittimo, quindi è coerente alla legge, oppure contro legge, se è contro legge, mi diriamo che è legittimo, ma se è legittimo inserire questa specificazione anche all'interno del regolamento di contabilità, non penso che sia proprio fare il bar, perché poi ovviamente il sindaco, avendo ricevuto qual è la volontà di indirizzo del Consiglio, lo farà anche all'interno del regolamento degli servizi, ma inserendo pure qui, rende illegittimo i regolamenti. Mi pare, se ho capito meglio, voi avete posto, con quest'ultima domanda, è molto chiaro, ma anche gli altri interventi, una domanda al segretario per vedere se quello che stiamo per votare è qualcosa di legittimo oppure. Mi pare di capire che stiamo di fronte a uno di quegli altri, diciamo, ultromi rafforzativi, cioè se è una competenza mia, il Consiglio vuole dare un atto di indirizzo, quindi non sta a facere un atto illegittimo, siccome io non l'ho pure incontrato, mi sembra di capire che il vostro evidente è questo, io penso che se si vota oggi in questa direzione non si fa nessun atto sul congresso per di raduire le leggi, semmai, secondo il segretario, sono un atto superfluo, un atto di indirizzo che il sindaco potrebbe anche non recettire, eventualmente, perché poi l'atto diventa quello l'atto mio. Come non è previsto, mi auguro, un'altra sosprezione pandemica, noi ci vedremo da qui a poco, quindi quello che stiamo dicendo, quello appena, anche per essere un po' concreto, quindi per me lo possiamo anche votare. Sindaco, tutto rispetto per te, noi siamo qua, noi siamo da parte voi, io aspetto, la risposta dal segretario, il segretario, lui ci risponda su questa domanda, io ho dato una mente di una mente politica, non vogliamo metterci nel ruolo, noi ci fidiamo del suo parere a domenica, però c'è via, cortesemente, non faccia rispondere al senso. Sì, allora, lo preciso, si tratta di un atto improprio, chiediamolo così, cioè se il consiglio lo vota è un atto di indirizzo, perché essendo competenza e si consiglia, il sindaco, come ha precisato da giurista, mi ha detto di dire, importante questa volta, come ha ben precisato, lui potrebbe anche risattendere, perché ha una sua competenza escursiva, come tutte le persone illuminate, quando si tratta di interpretazione del diritto bisogna sempre far maturare la decisione, mai essere impossibile. Prego, consigliere Cacciato. Grazie sindaco. Io riterrei di dividere due parti, una cosa è l'eventualità che il consiglio di atto di indirizzo al sindaco eventualmente di reintegrare nel suo famoso visto, ma l'intento dell'eventamento, è in esso, è tutta altra cosa. E affinché i dirigenti della direzione e pianificazione strategica verifichi congiuntamente con il direttore generale l'attentabilità, l'attentabilità è un'altra cosa. Mi sembra tecnicamente più funzionale se il dirigente della direzione che pianificazione strategica esprima un visto, non lo comparei, non l'autorizzazione qualsiasi oggetto. E dove? Dove se non è regolamento di contatto di santo? Tecnicamente è più funzionale. Altra cosa è poi rintendere, rintrodurre il visto nei regolamenti di santo che io convento con questa cosa, che è di competenza escursiva desidera in questo caso. Però l'aventamento dell'eventamento è diverso e introdurre un paese, un visto di conformità tra il dubbio di quale delito. E chi lo deve dare sarà la direzione che pianificazione strategica. Insomma io direi adesso di mettere in votazione il paese di dire al generale, così era un atto di indirizzo legittimo. Quindi il Consiglio lo sta facendo su illegittimità. mettiamola in questo modo e noi lo riceviamo poi immediatamente come organo esecutivo nella sede propria. Quindi al stesso punto votiamo l'emendamento e poi dobbiamo fare. Due votazioni su, va bene? Quindi votiamo prima l'emendamento tra posto di... il microfono è acceso. Quindi allora mettiamo in votazione l'emendamento come proposto al Consiglio Matazzo con la specificazione del segretario dopo la discussione in aula, che è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astime, assenzione... Quindi a maggioranza con l'assenzione della consigliera Quaglietta mettiamo in votazione il regolamento, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astime, con l'assenzione... Grazie mille. 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 Buonasera. Procediamo al Consiglio Matiz. Il numero 14. Regolamento del conferimento dell'incarico commissato d'acta dell'esercito del senso consigliere di maledicare. Grazie mille. Grazie. 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 è una cosa, il commissariamento è un momento, come dire, di riscontro che la legge ci impone alle inerzie delle pubbliche amministrazioni, nel momento in cui il commissario viene nominato, esce dall'ente e va a sboggiare un ruolo che è di pertinenza esclusiva dell'ente dove arriva. Tutto ciò che è, ritengo che la cosa possa tranquillamente essere presa in considerazioni, quindi poi vorrei che il segretario integri o chiarisca quello che ho detto. Lo penso, signor, è stato, diciamo, che mi sono stivo, ma anche da, naturalmente, rispetto a tutti, se ci sono delle due corinnessi da parte della Consiglia, naturalmente, lui ha fatto un termetto ad un'arte eventuale, diciamo, con un'utilità di una sciopatrice, l'angelo in cui tutti gli uffici non siamo, noi ci dobbiamo poter dire, nella capacità di un zero, a lavorare, naturalmente, anche in un certo senso inquadrato, quale può essere la possibilità rispetto alla quale, che non sarà, di solito, su una posizione di un ente locale, non riesce a andare in piedi, non riesce a andare in materia urbanistica, dentro tutti i comuni del periodo, dove c'è stato scrive risposte, diciamo, quella lì con l'ufficio, perché, diciamo, non c'è una ordinarietà, diciamo, o una ordinarietà, naturalmente, come sempre, prevede la possibilità di poter, e quindi, veramente, integrata, la loro corsa, la loro corsa, la loro corsa, la loro corsa, ma io penso che non sia, naturalmente, poi, faremo carico, la segretaria, se c'era anche il dottore di un'idea, se volete che, anche il centro di un senso, operare, dare le persone, hanno un'idea di informazione, perché, di un'ordine, la presenza, la presenza, sicuramente, la consiglieria, possa avere un'idea di votazione di mani. Passo la loro, grazie al segretario. E se c'è il dottore, grazie, grazie a tutti. Grazie, Presidente. Dunque, la questione è considerata assolta, perché c'era l'evoluzione che, in l'albo interno non fosse sufficiente ad esaurire tutte le necessità di commissariamento davanti del legno. Quindi è stato chiesto nel corso di questo incontro, a cui il consigliere Giosano c'era riferimento, quale fosse il criterio eseguale in base a quale si potesse operare dove ci fosse un esaurimento dell'albo interno, oppure se in caso di rinunce anche diciamo volute, volontarie da parte di qualcuno degli incaricanti, questo potesse comportare delle scelte di fatto non automatiche. L'osservazione che lei ha fatto è corretta, cioè il regolamento non prevede i criteri per il conferimento di incarichi all'esterno in questo momento, quindi la proposta regolamentare, così come evitata dal dirigente competente, non prevede questa possibilità, cioè o meglio non prevede i criteri. In ogni caso, le dico che qualunque incarico viene conferito all'interno di città, metropolitati, sia essi interno che esterno, richiede l'obbligo dei carichi prendenti, della verifica del caserario giudiziale, delle autodichiarazioni in ordine alla incompatibilità o alla improcedibilità, e comunque sarà oggetto del piano di prevenzione e corruzione in corso di implementazione, in riferimento a analisi di processo, analisi di rischio, analisi di impatto e a livello. Di questo anche il dirigente competente dovrà organizzarsi, perché come sapete i primi referenti del responsabile di corruzione sono indirigenti e quindi questa parte a cui lei fa il referimento non è disegnata, comunque riceverà da parte del responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza un'idoria trattazione, salvo che naturalmente il Consiglio stesso non intende di evitare la proposta di regolamento indicando i criteri, in quel caso chiederemo i parenti con la realtà tecnica e o contabile se necessaria, la ricetta competente e quindi il Consiglio dell'interno. Io non ho messo in dubbio la proposta del regolamento, volevano intanto capire se erano contabili in un caso di perfumi non si può finire al personale interno, se voi avete già l'idea che questo non potrà venire, se non si riferisce al personale a utilizzare gli esperti, secondo me il fatto che il personale interno garantisca la propria trasparenza dovrebbe essere il valore presente, al di là di scelte che possano venire poi successivamente, quindi solo questo è l'attore del debattito. Voglio precisare che l'aspetto in ordine della scelta dei dirigenti o funzionari per valente è tutto prioritario e questa è solo una roba di chiusura, cioè o che il numero si esaurisse, perché in questo regolamento vedete anche un numero massimo di incarichi conferibili, proprio se mi posso permettere di evitare l'incaricificio, cioè degli specialisti sappiamo che il nostro ente, insomma c'è stato qualche problema in questo senso, quindi intanto abbiamo cercato di aprire l'albo non solo alla direzione specifica ma appunto l'ente e questa roba che prevede l'incarico all'esterno non disciplinato attualmente è solo una roba di chiusura residuale in caso avessi volessero esauriti i carichi interni di chiusura residuale. le dimostra e questa è predisposta per agire nella visione in cui mettere dove se essero dove si trovarsi in una condizione delicità perché non ci sono come dire tecnici da sufficienza per sovraggiunte pratiche di intenzione afferenti che può avere la commissione mediale. Cioè, è come dire, se fosse da un altro soccorso, se non c'è l'esigenza, cioè non è una cosa che vende comprogrammare, comprocastricare come vuole. Cioè, se c'è l'esigenza, allora, se non c'è l'esigenza, è come se avessi formato una parte, diciamo, la velocità delle relazioni, come se non fossero disponibili gli interni a fare commissione ad atta, come lo vediamo, non deve dare di trovarci in una situazione di deficit, ma di difficoltà di qualora, ma qualora, l'Eno che non avessi la disponibilità, tecnici, ingegneri, architetti, dell'utilità del Regno, disponibili a fare commissione ad atta, qualora questo Regno fosse esaurito, potrebbe intervenire e rinconoscere questo, si occupa in capito. Questa è la misura, come se fosse un'eventuale programmazione, ma non è un'esigenza naturale, non è fisiologica, non è quotidiana come giure. Quindi è questa, come se, naturalmente, portano quasi un programma, prova un certo passaggio ad immaginare che non possono essere tutte le condizioni di difficoltà rispetto alle quali i commissari ad atta si possono provare, non si possono provare, non si possono provare, non si possono provare, non si possono provare. Quindi è un modo per lavorare meglio, anche nel maggio studio, naturalmente tutte le gestioni che si seguiranno, segretaria di compenze, mi spiace, non c'era Gaudino, quindi non riusciamo, come dire, a dare anche un passaggio di calcio, ma è nata in una memoria di ciò che è stato detto, non che ne ha mette il segretario, non c'era l'indicabilità rispetto alla quale uno sceglie di fare senza la condizione di citare la scelta. Sto a programmare il problema di attuare nella misura in cui si nasce. Lei ha fatto una proposta di ritiro, lui, ma dirigerà. Allora... No, non ci deve fare. Ma va bene, però ci siamo al congine di guaglietta di 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 consigliere guardete puoi 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 figurare esplicitamente la richiesta dentro la voca non si senti no Consigliera, vuoi formulare la sua richiesta di evitare e metterà il voto? Sì, ho chiesto di ritirare la evitare per una maggiore promozione, quindi se non possiamo mettere il voto? Allora, mettiamo anche voi la proposta della Consigliera del PD di ritirare il punto a 12 del giorno afferente la maniera di musica. Allora, ritiro la proposta per il profondimento della Consigliera Coglietta e ringrazio il primo fatto servizio oggi. Grazie. Siamo votando per un attimo di attenzione. Signori, allora chi è a favore al rinvio del punto all'ordine del giorno rispetto agli incarichi da commissaria Ratta proposta dalla Consigliera Coglietta? Chi è a favore al rinvio dei Panama? Chi è al contrario? Vecco. Vecco. Passiamo al punto veloce. Allora passiamo alla valutazione che a favore alza la mano, nel contrario chi si astiene? Allora si sta mettendo la valutazione, l'approvazione del punto 14 del regolamento, andiamo a voto, chi a favore alza la mano? Chi è contrario, chi si astiene? Ci stiamo passando, si, si, ma ci stiamo passando. Va bene, allora passiamo a... Il punto è approvato la maggioranza, questi scatti di materia di segolamenti sembra che non ci sono venuti a eseguire, quindi andiamo a tutto 15. Allora, l'articolo 20,4 del PSP, le visione dei organi delle partecipate della città, la comunità navale dell'attuazione del piano di avversamento e la situazione del 2018, le relazioni sono i risultati conseguenti del PD e del C3 2018, scusate ma non lo spegniamo, no. Allora, mettiamo a voto il punto 15, chi a favore alza la mano? Allora, l'articolo 20,4 del PSP, le visione economica delle partecipazioni della città metropolitana di Granma, attuazione del piano di razionalizzazione del 2018, relazioni sui risultati non servizionali del PD e del C3 2019. Grazie. 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 Grazie a tutti. riguardante la lezione di un'ottica di partecipazione, che cosa stiamo facendo e che cosa stiamo facendo. Scusi, come ho detto prima, non abbiamo avuto personale in questo periodo, non abbiamo neanche avuto tutta la regolamentazione per poter, allora vorremmo evitare di ruotare atti di cui non conosciamo la consistenza. Questa è un'altra situazione. Insomma, siamo in un momento di particolare difficoltà. Allora, scusate, se volete posso dare qualche esplicazione io, perché è una mia delibera. Allora, il testo unico sulle partecipazioni prevede alcuni adempimenti. È stato introdotto ormai quasi quattro anni fa e di anno in anno il Consiglio si è espresso su questi condimenti. Questa delibera in particolare, in realtà dovrebbero essercene due di delibera, l'altra è stata approvata dal Sindaco e la ritroverete al prossimo Consiglio. Questa delibera è la presa d'atto di tutte le risultanze della revisione periodica delle partecipazioni che voi avete notato l'anno scorso. Quindi il 2018, con una sostanza dove c'era una delibera che prevedeva tutta una serie di attività, sfocia in questa delibera, che è una sorta di relazione che racconta un po' che cosa è stato fatto per una società piuttosto che per un'altra. L'altra delibera invece, anche più importante di questa, però vi troverete sul prossimo Consiglio perché vedo che non c'è mai due del giorno, è quella che si definisce la revisione delle partecipazioni 2019, quindi l'analyse, infatti è stata votata al Sindaco a dicembre del 2019. Ed è più programmatico, questa è una sorta di rinfrutto, cioè per esempio che cosa è stato fatto per GESA, che come è stato modificato lo statuto, che cosa è stato fatto per le partecipazioni minori, la trasformazione, ve lo dico proprio per esempio perché sono stati 5 mesi, mi manco ma di corso a memoria, però per esempio Trianonini Pianni, che era una società per azioni, è diventata una fondazione, noi l'avamo scritto nella nostra programmazione, in realtà è diventata una fondazione. Questo è, insomma, è una sorta di relazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Se non ci sono interventi, direi che ho avuto o la tua proposta di ripio o dopo la tua proposta di ripio, eventualmente, se sei d'accordo con la tua proposta di ripio, se sei d'accordo con la tua proposta di ripio. Presidente, ci consente un attimo, cinque minuti di consultazione, anche in un'idea di risultato di risultato di risultato di ripio. Grazie. 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 Presente, Ionino Presente, Iossa Presente, Ipia Assente, Vandaloni Presente, Marrazzo Presente, Asce Presente, Maglietta Presente, Romano, Salvatore Presente, Scambati, Ladovianna Presente, non c'è, chiedo scusa, perché io guardavo dove era seduto, con lo sguardo dell'identifico, Scambati, Cagliari Presente, Vito, Assente, però non c'è, Tox, Paola Assente, Presidente, di 16 a 78. Mettiamo in voto la proposta, cioè il numero regale, mettiamo in voto la proposta di Eliana Cusciare, punto numero 11, chi è a favore la proposta di Ripio, che è a favore? Il contrario, chi si astiene, all'unità. Punto semplice. Allora, abitazione quota detenuta in società, cioè inizia di tecnologia, non sai, società cooperativa responsabilità limitata, università di Sibili Naturi, che di così via. Chi ha foro che non si amano, il contrario, chi si astiene, all'unità. Il medico si astiene? Chi si astiene? Chi si astiene? Chi si astiene? Pregocia, gammale e qualità. Passa la maggioranza, vogliamo prendere immediatamente esecutiva, chi è a favore di Sibili Naturi, chi è contrario, chi si astiene? Come prima, in mediale esecutività. Diamo al punto 17, chi è a favore di Sibili Naturi? Pregocia per il presidente di Sibili Naturi. Non so, chi è a favore di Sibili Naturi? Non so, chi è a favore di Sibili Naturi? Allora, 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 allora leggerò tutti gli articoli, scambiare a guardare, leggerò tutti gli articoli. Allora, articolo del punto 17, ufficio dei procedimenti disciplinari, disposizione in materia di disciplina del personale P.D.N.C. 121.2020. Abbiamo la discussione. C'è qualche intervento? No. Allora procediamo alla formazione, chi a favore ha? Si, chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 4 astenuti, passano a maggioranza. Voglio contrarre? Nessuna, astenuti 4, scambati, e cilindro. Non cilindro, vedi cilindro. Cilindro, vedi cilindro. Cilindro, vedi cilindro. Allora, passano a maggioranza, vediamo che prende la immediatamente esecutiva, chi a favore ha Zinavalo? Chi a favore ha Zinavalo? Chi è contrario? Chi si astiene? Vedi cilindro. Vogliamo prendere la mia amore, se non cilindro. Approvato. Allora, punto 18, presa l'atto dell'applicazione di un nuovo posto della società di gestione di servizio e di rapporti Campania S.P.A. conseguente la funzione di riportazione di aeroporto satelna postrella avanti S.P.A. e D.A. GESA che è S.P.A. giusto per fare di assegurare straordinario del 7.10.2019 P.D.N.C. 168.2020 Chi a favore? Abbiamo la discussione. Chi a favore ha Zinavalo? Chi è contrario? Chi si astiene? Passa una ragionanza vediamo la gente è una media esecutiva di averci però senza bisogno di una prima di un'esercizio di vita ma è una cosa passiamo al punto di lavoro con il consigliere S.P.A. l'indicazione per la denominazione del porto sanitario personale 2020-2022 è venuto 47, 74, 6 e 22, 4 e 2020 abbiamo la discussione? Ossone. Allora, l'attuale emergenza Covid ha dimostrato che occorre necessariamente potenziare anche numericamente il corpo della polizia metropolitana la cui operatività si estende sull'interno territorio provinciale ed è spedibile per soffermire a puntuali esigenze o a locali carenze. Chiedo a testimoniale di ciò il vice sindaco Liovino a volte mi ha chiesto l'intervento per la sua città e la polizia c'è stata il sindaco Tito anche a Pietro di Sorrento e la polizia c'è stata nei giorni nei giorni che questo dramma ci ha avvolto e quando la polizia municipale a Napoli perdeva perdeva passi abbiamo risposto alla polizia metropolitana nella vigna secca la sanità insomma ma questi ragazzi questi uomini e queste donne hanno fatto un lavoro eccellente ma noi è da più di un anno e mezzo che parliamo dell'assunzione dei concorsi della polizia metropolitana e in quel tempo quando la dottoressa Cavastro era la dirigente del personale e in modo egregio mi espresse quale è la linta io lo accorsi favorevolmente insieme a me che sindaco e insieme a me che sindaco bisogna fare prima la mobilità dopodiché procediamo ai concorsi la mobilità è stata fatta non è stata non ci sono stati esaminiti le richieste dobbiamo fare concorsi non mandire i concorsi a fronte di mobilità infrottuosa sarebbe un radissimo inattentimento figlio di consuete manore e manore mi rivolgo ai miei colleghi consiglieri vi prego di ascoltarmi solamente due minuti una simile intonerabile inerzia non da prodatta nemmeno un secondo di più ancora c'è in assenza di concorsi pubblici ne dovrete dare delle confusioni politiche la collaborazione di cui parlava il sindaco e che abbiamo condiviso cancellando la parola opposizione parte da qui e poi ancora stiamo parlando di questa cosa da anni ma queste cose sono dovute e hanno bisogno di legalità e sicurezza che viene dal territorio adesso con più forza ancora ma abbiamo anche operazione equilibristica di basso nativo e intimo profilo vorrebbe ignorare la cosa io vi chiedo una cosa signori consiglieri ma chi fa maura la forza di formazione della polizia municipale la mobilità è l'esercizio di legge che precede il concorso se c'è stata richiesta di mobilità vuol dire che vuol dire che serviva non c'è stata fatta la mobilità facciamo un concorso se questo non ha prodotto l'esito sperare quindi si procede immediatamente al concorso io chiedo a miei colleghi scusate c'è uno solo uno solo di voi che dice che oggi a Napoli e provincia non c'è bisogno di lavoro o non c'è bisogno di sicurezza chi lo dice vi posso assicurare che questo mio non è un capitolo capriccioso e politico è solamente buon senso e a questo buon senso che ho richiato tutti uomini io vorrei chiarirsi i miei colleghi saldassero sui banchi come quel film capitano mio capitano perché è quel senso di responsabilità che deve venire fuori non per valore che si fanno ma non sono contato a chi lo ha fastidio a non creare la polizia della politica a chi lo ha fastidio a creare questi ragazzi eh no invece si prendono i dirigenti ho letto ho letto che qualche genere che si adopera che si adopera ad assortizzare il corpo della polizia della politica ha inserito dei compiti della polizia per la politica ma mineraria sapete che cos'è la mineraria ve lo spiego io la polizia per la politica dovrebbe andare a condonare e mi chiede quante persone sono a Napoli in indire chi l'ha scritto forse lo stesso genere disciplinò del consorzio sole che in 21 che in un anno e penso consente di tutto bene e adesso in un anno e penso il dirigente della pari mondo non ha consente di tutto niente l'avete potuto spostare allora cari consiglieri non lasciate gli amicolari da chi promette da chi spaventa da chi vuole sostituire il padre non era un altro padrone non mi guardate il sottomontre lo deve comunque altro lui siate liberi siate liberi esprimente il vostro pensiero ok ok ricordatevi che ciascuno è confuso un individuo prezioso e responsabile artefice di se stesso e difendetevi proprio io perché il proprio è il doncio della libertà e il nostro sindaco ci ha insegnato che la libertà è il dovere di un altro diritto e ascoltate l'unico che proviene dai nostri territori e difendete i cittadini che ti hanno portato qua grazie è finita ci sono interventi? passiamo a votazione? no c'è un intervento passiamo a votazione aspettano passiamo a votare ma se non mi sono esprime un paese poi la parola ci sono sempre non mi sono allora io ho consentito pienamente accorato appello del collega considerate l'importanza strategica che ha la posizione di comunità per quanto riguarda non soltanto il controllo del territorio, ma l'erogazione di servizi assolutamente indispensabili dalla cittadinanza che andrò tra poco a disporre. Prima però vorrei ricordare che stando alle norme che hanno distribuito la città metropolitana. C'è stato un'acqua che voleva che anche a Napoli si facesse il passato fatto nelle altre città metropolitane. Praticamente la completa devoluzione dell'energia e delle competenze per favore all'esterno si potrebbe fare. La devoluzione di questa risorsa del re che si provvince di una città metropolitana ai comuni e delle regioni, tant'è che nel suo piano, nel revigere il piano antifracconaggio nel 2017, il ministro Costa, la proposta che poi fu approvata dal ministro Costa, rilevata come ci fosse stato un esolo continuo e inarrestabile verso altre amministrazioni, soprattutto la distinzione comunale, non tanto di forza lavoro, non si trattava di forza lavoro, ma si trattava di competenze, di sapienza per quanto riguarda sia il contrasto ai reati ambientali e contro il patrimonio dello Stato, ma anche contro l'amusivismo, per quanto riguarda il controllo e tutti quelli che sono gli scarici inquinanti, l'avvelenamento all'interno dei fuochi, soprattutto dopo che il corpo forestale dello Stato è assimilato ai carabinieri perdendo autonomia e perdendo anche tutta una serie, una filiera di comandi diretti sulla prevenzione dell'ambiente, questo noi l'abbiamo visto drammaticamente negli incendi nel vesuvio del 2017, questa mancanza di rapidità reattiva, ebbene l'unico corpo che ha conservato la specificità sulla repressione di reati ambientali sull'intervento diretto è la città metropolitana di Napoli, ma attenzione, la genesi della città metropolitana di Napoli non è un'agenzia di tipo generico, tutte le polizie, le polizie provinciale e quindi per filiazione quelle per le politane nascono per dettato legislativo antico e sedimentato cui si è poi aggregato anche la nuova legislazione delle province dopo il 1970 e le regioni dopo un'agenzia di città, nasce come polizia ambientale, non ha generiche attribuzioni relative all'ordine mondiale, si pone una specializzazione, si pone una specializzazione che viene conquistata non soltanto sul campo ma attraverso quello che è stato, che è passato, che è un corso formativo, che poi è stato completamente avanti. Io non credo che la polizia comunitana debba soltanto essere rinforzata nel contingente, ma deve essere rinforzata anche con l'appropriata opera di riprofessionalizzazione, perché da quando sono finite le ondate formative sono intervenute dei cambiamenti potenti. Lo stesso accordo stato legionale del 2018 ha formalizzato la nascita di intere figure professionali prima in esistente riguardo alla questione della tutela e della gestione del vero e del patrimonio naturale. Allora, tutto il problema del contingentamento e della soluzione città metodologica del nuovo personale di polizia, secondo me va inquadrata una problematica un attimo più estesa. Il problema è quello di recuperare una visione, non soltanto, recuperare il personale che attualmente è distaccato su richiesta delle procure ed è un numero dirigente di operatori. Questo non perché noi non dobbiamo coattivare le procure, mi farebbe piacere che c'era anche la dirigente, perché questo è un pensiero che mi è espresso più volte. Noi abbiamo il dovere di collaborare, il dovere primario di collaborare con le procure sulla base delle nostre competenze e della nostra autonomia, perché una cosa è essere coinconti in un'operazione di indagine, in un'operazione di repressione, in una tasca forza, altra cosa è essere invece utilizzati con figli che sono soltanto superintiziamente proprio alla nostra finalità. I nostri poliziotti sono dei poliziotti, fanno indagini, fanno azioni. Allora o sono impiegato per questo, oppure non ha senso che siano distorti e che poi noi andiamo a fare una leva per fare le cose per andare a riempire prioritariamente i buchi che noi andiamo a riempire delle procure a gratis, anzi andandoci anche a rimettere economicamente in maniera che spigua, senza avere nessun tornaconto dal punto di vista della possibilità di incidere sulle scelte delle prodotte. Noi non abbiamo la garanzia che le nostre opportune, le nostre doverose attenzioni alla repressione legate al ventale siamo perseguiti efficacemente dalle prodotte grazie alle nostre forze. cosa fanno i nostri cooperatori? Cosa fanno? Seconda domanda, è possibile prima di fare una leva, di aprire una leva per l'assunzione di personale, rivedere il mansionario, rivedere le attivazioni e le competenze, perché le leggi sono andate avanti, le leggi di oggi regolano le polizie provinciali e le polizie ambientali, non sono più le stesse di 5 anni fa. La stessa regione Campania ha il progetto di modificazione. Lo stessa conferenza Stato-Regioni ha introdotto delle nuove fattispecie, non soltanto di reato che non poteva perché non era proprio suo, ma sicuramente di competenze da attribuire alle polizie provinciali e anche a modificare quali la lì del manutentore botanico all'interno di un processo di rivalorizzazione della tutela del vero. Noi come Enem non soltanto vogliamo e non invidiamo che la città di Lombitana si dobbino di forze adeguate sia per il numero che per qualità della polizia in Lombitana, ma anche gli strumenti, dal drone ai mezzi necessari per poter andare in Campania perché non possiamo andare con l'appunto a stanare né bracconieri né colori quali sversano quotidianamente peleni nelle nostre terre. Abbiamo bisogno di strumenti. Abbiamo bisogno anche di una velocità di reazione che ci viene garantita anche da mezzi di organizzazione telematica che ci consente di essere sempre e costantemente in contatto. Allora noi diciamo che questo concorso sa da fare, ma non in queste condizioni. Prima esca fuori con l'interruzione, con il nostro corpo di polizia, con i sindacati dei lavoratori, con le intenzioni politiche espresse dai gruppi. Che tipo di assunzioni vogliamo fare? E insieme alle assunzioni immediatamente prevedere in procedura concorsuale, in procedura concorsuale, un percorso di corso-concorso per cui le prove siano comunque integrate e corroborate da un corso di formazione del secolo che ha dato almeno 12-18 mesi sulle reali competenze della polizia ambientale. Andare adesso a individuare un fabbisorio e ad avviare quindi una tutta una procedura con frequenza concorsuale senza esserci prima chiarito a monte, secondo me è sbagliato. Noi dobbiamo mettere all'ordine del giorno della città metropolitana entro l'estate, la ridefinizione della figura, la ridefinizione delle competenze, la ridefinizione del reale fabbisorio non soltanto del medico ma funzionale della città metropolitana. Dopodiché andiamo a mazza secca a fare tutti i concorsi che dobbiamo fare e soprattutto a formare tutto il personale così come il personale deve essere formato. Grazie. Non avevo intenzione di intervenire però mi sembra che la problematica esposta è la problematica che richiede necessariamente una valutazione attenta ed anche un pensiero collettivo da parte nostra. il consigliere Sgambati ci richiamava la libertà di opinione e io esercito questa libertà di opinione da sempre. La mia vita è all'insegno della libertà di opinione. Ebbene sapete tutti che nei mesi scorsi si è svolto una concorsione regionale alla quale hanno partecipato qualcosa come 10.000 persone. Cioè ci sono state 10.000 giovani provenienti ovviamente da tutta Italia che covid o non covid il covid faceva meno paura della disoccupazione che sono venuti a Napoli a sostenere questo concorso dove c'erano svariati profili. Ebbene di quel concorso allo stato attuale non si sa più niente. Si sa però che molti comuni della regione Campania avevano aderito a quel concorso pur essendo in dissesto. quindi strada facile per potersi poi sfilare e quindi per poter dire che non potevano più assumere le persone che pure avevano superato un concorso e quindi erano stati dichiarati donne. Prima di tutti l'ha fatto il comune di Avellino. Quindi diciamo molti di quei giovani che hanno speso 70 euro per acquistare il volume prodotto in assoluta mancanza di concorrenza dalla Simone editrice alcuni dei quali hanno seguito anche dei corsi di formazione per poter accedere a questo concorso che era già in auge questo problema del covid si sono messi in fila e hanno partecipato a questo concorso non verranno assoluti perché i comuni avevano dato il loro consenso al fatto di dover assumere delle persone per potersi poi sfilare o perché erano in dissesto o perché poi hanno trovato la buona scusa che essendo intervenuta una situazione molto più grave che stata quella del covid-19 che non potevano accedere alla fine. Io davvero perché mi riferisco a quel concorsone? Mi riferisco a quel concorsone perché dico oggi come oggi effettivamente il bisogno di lavoro è forte l'esigenza di lavoro è forte di vari profili di molteplici profili anche evidentemente del profilo ambientale se è vero, se è vero che la natura ci ha dato una di quelle mazzate profonde con il coronavirus e ha voluto dimostrare che tutto sommato se vuole può fare almeno del sapiens, dell'uomo sapiens quando diventa il sapiens ok? Va bene? E allora questa questione del presentare oggi una mozione, un emendamento io non so esattamente che cosa, qual è questa di del consigliere Scampati relativamente alla necessità di inserire di fare un concorso per irrobustire il consiglio metropolitano, io vorrei esaminarlo meglio, vorrei meglio capire se vi erano in quel concorsone dei profili che potevano riguardare anche la città metropolitana e la polenzia della città metropolitana vorrei capire meglio questo tipo di situazione, perché? Che ci sia esigenza di lavoro, è chiaro che ci sia esigenza di polizia, come diceva il consigliere Face, di polizia ambientale, è chiarissimo dico il sanno era diventato pulito in questi giorni, tre giorni e si è risporcato, che significa che si è risporcato? si è risporcato ma questa volta avremmo potuto individuare facilmente chi è che l'aveva sforcato e da dove arrivavano evidentemente i rifiuti bene, io credo che Idonarda sia di vuota, stanca e che ha già votato un po' in condizioni non proprio più serene, non più opere più tranquille quindi questa cosa occorre fare una valutazione su questa proposta di sgambato per cui non ce l'avevo io, ma io ti propongo un compito per poterlo studiare insieme, per poter capire sia la diciamo insomma l'omogeneità rispetto a quel concorsore sia per comprendere effettivamente quanto sia necessario non solo alla disoccupazione ai giorni, perché quello è fuori di dubbio, ma anche alla città metropolitana avere appunto un irropostimento della polizia metropolitana ma poi dopodiché ti assicuro consigliere Pascio che chi lavora in procura ci lavora veramente, sai perché la procura ha aperto davvero centinaia di fascicoli per reati in Italia e quindi questi che sono arrivati dalla polizia metropolitana davvero svolgono questo lavoro e d'altra parte se tu non metti insieme la prevenzione ma anche un pochino di repressione te lo dice una che è contro la repressione di senza assoluto, beh allora non vai avanti frepunto che la proposta di sgambato e del consigliere sgambato venga inviata per una migliore osservazione da fare possibilmente più collettivamente, grazie 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 allora diciamo, c'è l'intervento di questione di anni, prego intanto, lungi da me, pensate che la vostra, la vostra, la vostra, la parliamo il corpore di questione di domenica sta provando da uno in mano e dovrà continuare a farlo ovviamente quando c'è esigenza di forze da noi siamo attivati a non dare distaccati se ne abbiamo bisogno Quindi bisogna innanzitutto ritornare a verificare questa esigenza, se possiamo noi in condizioni di poter dare o meno di distaccare alla procura o a chi è successo. Sì, è emozionato il consigliere. Ma il modo multimolare, quello che non emerge è stasera. Io credo che bisogna fare un ragionamento insieme. Ci sono una serie di uffici, mancano risorse fondamentali. Non c'è un dirigente che non ci chiede risorse. Quindi c'è bisogno di rafforzare, c'è bisogno di fare un ragionamento insieme. E quindi di vederci con serenità e ragionare sulla questione generale del danno, tenendo in considerazione la felicità della polizia. In questi giorni, come vedete, mentre tutti stanno sbattendo tutti, l'unica forza del danno delle nostre state, che è la polizia della comunità. Quindi, rendendo loro a pausa, puricamente al consigliere generale. Ciò non toglie che noi, con il nostro modo di fare la felicità, non apporteremo il nostro modo di proprio questo tipo di un fatto. se parlando con tutti i condotti dirigenti, capire qual è l'esigenza reale, tenendo in considerazione la canzone. che stanno parlando con l'avvento. Vero dei termini di stati c'è il problema. Infatti, ma non solo di vederci che stavano all'avvento, stavano all'avvento di tutti. Poi veniamo a parlare dell'avvento, ma oggi abbiamo detto che se possiamo fare salvo, perché non ci sono di più, dire bene. Veniamo a parlare di vederci, della scolastica, che c'è quindicinato, non si può sembrare mangi di affatto, perché non ci sono risorse. La polizia della comunità, c'è un ragionamento in atto. Non c'è da noi pensare di dire di mandarlo indietro. Però oggi, con una posizione leggera, parlando di un solo settore, non credo che sia anche casine sposate. Dire, facciamo questo e basta. Probabilmente c'è tanto da fare nel settore, ma dobbiamo ragionare questo. Dobbiamo ragionare con un quadro insieme e mettere sul tavolo tutte le esigenze in considerazione. E non, come dire, non dimenticarsi nella proposta del Consiglio di pace. A tirare la formazione del back bank sempre. Ma se non stiamo in... Se avessi chiesto un ufficio sul pane, non sono un ufficio di contattato di stato, non lo vedo. Pensate che c'è il giudice di pace, ci chiedono un primo regno di dipendente. Noi lo vediamo. Non stiamo in funzione di poter evitare. Se lì è importante... Non fai evitare assoluta. Se è il giudice di pace, non fai evitare assolutamente. Infatti proprio quello lì. Abbiamo evitato di mantenere. Ma indipendentemente, se stai in funzione di poter dare un futuro, devi dare segno. Ma se accettano di città, la giustizia non si può fare esclusivamente con il risorso della città. bisogna ritornare e lanciare la capa che non vengono imparare i nostri risultati, quindi sono favorevole al ritiro per il risultato di riduzione dei ricorsi di sanitario. Grazie per l'intervento. Grazie per l'intervento. Grazie per l'intervento. Grazie per l'intervento. Grazie a tutti. 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 Grazie. Scusate, è di fatto un ordine di aggiornamento, solo il proponente la può ritirare, quindi di che io stiamo parlando? Se c'è una proposta inserita all'ordine di aggiornamento, la parte del consigliere sgambata. Quindi, oltre che la ritira, ma ha già espresso la volontà di non volerla ritirare, e poi l'alternativa è votare il punto di essere un ordine di aggiornamento, molto semplicemente. Se ne dà, se ne dà, se ne dà, se ne dà, se ne dà. Se ne dà, io adesso insisto, parlate che è una cosa importante, e che credo che il metodo di approfondimento è una cosa importante, quindi il consiglio non può chiedere un approfondimento come uno dirigente prima di, che è una cosa diversa, un approfondimento pubblicamente dei dirigenti competenti e capire se c'è la possibilità di poterla, come dire, operare seriamente. La funzione del genere è una cosa importantissima, senza vedere, senza, oggi c'è, tra l'altro, una forza pubblica, perché non la vedo che cosa, non c'è stato un volevo solo dire volevo dire e l'ha fatto la formalità se non stava facendo l'ha fatto l'essere io ho chiesto io stavo dicendo perché ma mi sembra che a Parire io non c'eravamo io non c'erano sempre di bocciar per approfondire questo ragionamento e farlo come il nostro bloc ma compagno di solitari ma è un'altra persona ma è un'altra persona ma è un'altra persona ma è un'altra persona Visto che nessuno si è postato a pensi di sigla alla proposta del consigliere Sgambati sarebbe stato capito invece a cogliere la proposta della consigliera Goch e rinviarla d'accordo che nel prossimo consiglio nel frattempo ci iniziamo a vedere nel prossimo consiglio si porta l'argomento a sui scelati per bene io penso che possiamo mettere l'ultimo invio così come proposto dalla consigliera Goch con l'impegno di discutere prima del prossimo consiglio d'altronde vi ricordo che ci fa bisogno è una deliberata lontana dal sindaco grazie 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 Presidente io per la seconda volta vi devo parlare in linea con il segretario generale io credo che rispetto alla mozione presentata dal consigliere della giornalità la stessa o che viene terminata o la seguita un consiglio non può comprimere la possibilità di farlo tra le tante consigliere rispetto ad una mozione che questa volta è di indirizzo ma comunque una mozione che chiede di iscrivere l'assise o la segoccia o la seguita o la seguita o la deve finire anche il proponente quindi tutti i buoni propositi di tutti o la scuola o la scuola grazie 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 E' tutto vantato dalla scritta dove si è passata. Non ho capito. Presidente, bisogna stimersi sulla possibilità di votare più il mio o più il mio. Sì, sì, sì. 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 Ascione. Sì. Sì. Allora io direi, in atto di responsabilità, perché tutti provano come dire, nel confronto, proprio nel confronto, ma nel confronto sempre nell'immediatezza di Maio, facile, vi chiedo solo un attimo di me, un attimo di attenzione perché noi dobbiamo sempre far prevalere la ragione, mai lo scontro politico, mai lo scontro lavoro, e questo è questo, è questo, io vi dico che ci sia ancora in campo la proposta di Sgammati, di rivedere la proposta fatta da Sgammati, di riapprofondirla e di rinviare il Punga Lomini del Giove. Quando il Punga Lomini del Giove si torna con una condizione di inaccettabilità che è eccebibile rispetto al Consiglio, si deve passire. E poi il Punga Lomini del Giove, prima di accettabilità, allora, nuovo Consiglio metropolitano, aspira le reali condizioni o di ammissibilità o di accettabilità politica, non nel senso politico di parte, ma nell'interezza dell'altro politico per sviluppare la macchina, affinché finalmente dopo tanto lavoro, e non voglio dire mettere mai in discussione il lavoro della Polizia, dei Comunità, dei Comunità, dei Comunità, dei Comunità, del governo del Covid, quando abbiano finalmente una chiarezza rispetto a quelle che ne sono le prospettive del Corpo di Polizia. Quindi, rimane in campo la proposta di dire della Polizia. Vediamo gli approfondimenti del segretario Melo, questo fa sì che resta in campo la proposta di chi ha lavorato con la forza di Polizia e che con la possibilità, attraverso poi l'atto, diciamo, di indirizzo politico del Consiglio e dell'intendenza del Consiglio, si faccia un approfondimento con l'idea che la prossima volta bisogna avere una proposta operativa. Segretario, passo la parola. Grazie Presidente. Mi rivolgo al Consiglio, Presidente, ma naturalmente anche al Paese di Pace abbiamo fatto delle eccezioni. Sono un semplice avvocato, un avvocato di campagna, però sono avvicinato a parlare, documentandolo, naturalmente, come voi sapete, ogni regolamento è un regolamento con quali è il potente, ma non è detto che valgo lo stesso regolamento. Vorrei precisare questo. È stata presentata una prima proposta di mozione in data continuamente da parte del Consiglio di Siavati e ne è stata da noi qualificata, poiché veniva indicata che l'oggetto, la prego di seguire, mozione. Noi l'abbiamo trattata ai sensi dell'articolo 35,5 del regolamento del Consiglio di questo Consiglio ha portato. E' vero. Quando si tratta di mozione, il regolamento recita, testologico. La mozione consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere distruita e collegata nei pareti di regolarità tecnica e contabile per sviluppare la legge. Quindi ho avviato questo utopio su mia indicazione, in relazione sui porto ordini, per conferire i pareti di regolarità tecnica e contabile sulla proposta legittima del Consiglio di Siavati. Dopodiché è arrivata una seconda nota del 27enne, con la quale lo stesso Consigliere, nel rappresentare che la competenza non era del Consiglio, per suo esplicito riconoscimento, ma che riconosce che la competenza, come prima, è dell'organo esecutivo, perché in materia di determinazione che fa bisogno del personale, la competenza esclusiva è dell'organo giuntale, ancorché venga allegato al documento unico di programmazione via al bilancio, perché il Consiglio è sovrano, come sapete, essendo ai sensi dell'articolo 41 del CUE, a competenza utilizzata e quindi in questa materia solo il Consiglio può deliberare. Parlo del regolamento, parlo del bilancio, naturalmente degli strumenti di corregio. Quindi il TUP, comparevole con le direzioni, viene allegato al bilancio, precisa in quest'ultima nota che non intendeva proporre la mozione ai sensi dell'articolo 35,5, quindi sta dicendo che non era il nome di Luis che determinava la qualificazione dell'atto, ma ai sensi di un altro comma, che è l'articolo 35,1 che è recito. La mozione consiste in una proposta diretta a sollecitare o impegnare. Secondo un determinato regolamento, l'attività della città metropolitana in ordine uno specifico argomento. Di fatto, la proposta del Consiglio è sgandata. Era, come dire, prioritaria rispetto all'approvazione del bilancio, perché voleva, intendendo, nel sua esplicita dichiarazione, che l'ordine esecutivo modificasse il pianto, il pianto che fa bisogno, tale parere di mezzo di servizio rispetto alla proposta che lui aveva fatto. Credo e spero di aver conosciuto. In modo di sottostino riferiggio semplicemente a quello che prevenga il regolamento che questo Consiglio ha fatto. Una domanda, signora. Quindi noi adesso andiamo ad atto di indirizzo di assumere 11 lavoratori, uno con profilo di dirigente e l'altro con operatori. Cioè, io non posso dare questo indirizzo, io devo dare voto, perché non so se questo è quello che sei. Allora, addirittura, questo indirizzo è, da un atto, prodotto dall'approvazione del bilancio, è un indirizzo impossibile, si qualifica così, giudizia. Presidente, scusami, perché il bilancio è stato già provato a favore politico. Perdona, Presidente, hai detto, allora, c'è un equivoco di fondo, perché? Ha ragione il Consigliere Pace quando la mozione parla di un istruttore direttivo e 11 istruttore di vigilanza. Non è più un vero indirizzo. Io chiedo al Consiglio di esprimersi sul potenziamento della polizia municipale. Stiamo entrando nel tecnico e quindi ci vuole un panetto di regolarità a questa mozione. Perché non è semplice chiedere a un Consiglio che ne pensi se vogliamo rinforzare la polizia municipale. No, è tecnico, perché noi stiamo dando i numeri e stiamo dicendo assumiamo 12 persone e togliamo le apposte questo indirizzo. Al di là della regolarità a me, perché forse ci volevo di parere, di regolarità, ma vogliamo iscriverci in maniera definitiva. Io questo mi sto chiedendo, se è possibile. Il nostro capodutto credo che abbia già espresso una regolazione di voto per forza età. Ma ti volete spiegare, Consigliere, che c'era la comunità per 20 persone. Presidente, guarda, guarda. Io lo volevo spiegare. Procediamo al Consiglio. Odiamo la consigliere del Consiglio di esprimersi. Chi ha un favore? Mettiamo in votazione il Consiglio di esprimersi. Chi ha un favore? Ma che cosa ti mostrerà? La mozione del Consiglio di esprimersi. Consiglio di esprimersi. No, scusami, no, scusami, viceversa, qua ci dobbiamo capire. Allora, qua ci dobbiamo capire, qua ci dobbiamo comprendere. Innanzitutto, quando sono indicevibili le mozioni, non devono arrivare al Consiglio. Per una ragione molto semplice, perché sono indicevibili. E non si può mettere il Consiglio che sta cercando di agire insieme, sta cercando di trovare delle strade. Non si può mettere il Consiglio a dividerlo per questa cosa. Non esiste. Bisogna fare una scritta. Io voglio che sia solo 5.000 persone, perché tra queste 5.000 finalmente ce l'ha anche mio figlio, che è archeologo. Scusate, ma insomma, ma siamo spezzati. Cioè, non ci dovete mettere in queste condizioni. Va bene? Allora, se è ricevibile, è ricevibile. Se è un atto di indirizzo, allora è un atto di indirizzo, non deve portare l'indicazione di carattere tecnico. E allora, in quel caso, io sono disposta a notare il risultato. Oh, ma non si può fare così. Secretario, mi perdono. Vogliamo, per cortesia, spiegare ai signori consiglieri, altrimenti non capiscono e poi mi possono accusare di presentare mozioni ricevibili o che divida il Consiglio. Quella mozione è così tecnica, è così tecnica, perché era già inserita nella mobilità, la mobilità già legislata che dovevano mettere 20 persone, hanno risposto in 4, rimangono 16. Quindi io non ho fatto altro che fare, bene, meno altro, meno direttivo, sono 5, bene, meno 5 dove c'è stato, 11 di quelle, 4 di quelle, ma chi ha fatto 1? Su una, su una delibera, di mobilità, già esistente. No, che l'ho inventato io, già esiste ed è stata fatta, scusami, scusami, Francesco, è stata fatta per precedere un concorso approvato dal sindaco metropolitano che in quella sede si fece quale uguale anche dall'allora direttore generale Attilio Avicchio, avevano già postato tutti i soldi. Ma che state dicendo? Ma di che state inventando? E' uscito un articolo sui giornali per 10 giorni? Non si viene scappato. Ma per cortesia. La mia proposta, la mia proposta, diciamo, prova ad essere sempre, come dire, equilibrata, è quella di rinviare il punto. Per due ordini, il primo è quello che interessa le forze di polizia e interessa il lavoro fatto dal consigliere Sgampato. Il secondo è perché un atto che compie questa assise, quest'altra, se era indicevibile, dobbiamo verificare se l'atto era ricevibile o non ricevibile. Dato che due atti non ricevibili non li possiamo votare, io direi che l'inviare, lasciare il punto, qualora il punto successivamente sia ricevibile, si corraggia la risortata a molti delle giorni e due atti. Qualora non sia ricevibile, si deve modificare, l'appresentato lo deve modificare e lo deve inviare. Quindi c'è una responsabilità, una corresponsabilità di tutti, nell'interesse che non prevale il singolo, che non è prevaleatorio e che non è l'interesse della matrimonia. Quindi la mia proposta della qualità di vice sindaco è, diciamo, di in un certo senso organizzare i lavori in questo momento, non sempre. E' meglio specificare, perché poi mi sono trovato a dover organizzare i lavori, perché per questioni che non attengono a me, ma che attengono al sindaco. Quindi io dico che il lavoro di tutti va sempre rispettato, però purtroppo c'è una dimensione giuridica, è etena, carmine, di mano, e qua abbiamo una responsabilità come me di poter, perché se tanto era il ricevibile, secondo me c'è, doveva essere proprio elenco, a chiamare di andare nell'assunzione, a rientrare nel fabbisone. Allora, dato che alcuni passaggi sono già stati fatti con gli altri prenderizzi del sindaco precedente lei, si va a verificare quello che è stato fatto. Si invia, qualora deve essere modificato, tanto questa non viene riguardo, o viene individuato per una questione di ricevibilità, o viene modificato per una procedibilità, o non viene votato per un'improcedibilità. Però alcuni altri sono staggianti. La mia proposta è quella di votare, e io invito tutti a votare per senso di responsabilità, ma anche di rispetto dei colleghi che a volte hanno delle posizioni rispetto alla maggioranza diversa. Perché noi è bene che siamo una maggioranza, ma abbiamo sempre ragionato negli spiriti del gruppo, poi non viene con quanto fa una proposta, solo una, da qualunque parte viene la rispettiamo. Quindi direi di votare la proposta di Elena Goccia, di votare il punto resta all'ordine del gioco. Perché una volta che è stato presentato il punto all'ordine del gioco, e presentatario non lo ritiga, no, non si può togliere nella fase dell'assisto. Si va a verificare proprio lui, la possibilità che non venga ricevuto, non venga ricevuto, che venga in un certo punto a senso di tirata, nella misura in cui non ha una recitivazione per essere un'ordine del gioco. Allora, poi diamoci la proposta dell'ingunione della moscia, che è la moscia, che è il primo presentato dal consigliere Scampano. Chi è a favore? Alzi la mano. Arribbio. 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 Chi è contrario? Chi si asfiede alla dignità? No, 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 Presidente, perdona. Perdonati. Presidente, io mi astengo perché purtroppo oggi questo consiglio prende atto che sta valendo l'incertezza del diritto. Ed è paradossale quello che è successo in questa seduta. Quindi io mi astengo anche dalla dichiarazione. No, ma io ci tengo a riparmi da chi e che rispetto a me al punto all'ordine del gioco che abbiamo dato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 vediamo. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. vediamo. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. in questi. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.